Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, siamo qui con il post partita di Parma-Roma finita 0-2 con il gol prima di Cristante e poi di Under siamo qui in compagnia di un grandissimo tifoso della Roma, un commento su questa partita Partita giocata bene, primo tempo un po' chiuso perché insomma tutte e due le squadre si sono un po' studiate poi nel secondo tempo sono state anche più occasioni partita nel complesso non molto divertente però le occasioni sono state tutte nel secondo tempo nel primo tempo si ricorda solo un'occasione del Parma che ha fatto un miracolo Olsen poi nel secondo tempo è dovuto uscire Manolas e ci sono stati due gol della Roma il primo su calcio d'angolo con grande stacco di Brian Cristante poi il secondo gol di Under con assist di Pellegrini che è entrato al posto di Zaniolo che questa giornata non ha fatto bene come contro il Sassuolo non è riuscito a incidere mentre invece Pellegrini è stato decisivo si è rivisto Geko si si è rivisto in campo però diciamo è stato uno tra i peggiori ma non per cattiveria però diciamo che ci si aspettava un po' di più da lui ci sono stati qualche tentativi tutti i tiri un po' alle stelle non ha creato molte occasioni a parte un tiro nel secondo tempo su cui poi ha fatto una buona parata da Luigi Sepe ma poi è stato sostituito da Schick che diciamo ha toccato zero palloni quindi ma partita un po' in ombra per il bosniaco mentre il Parma come ha giocato? il Parma era senza inglese quindi non aveva una punta di riferimento inglese in tribuna ma era la partita nel primo tempo un po' chiusa ha avuto un'occasione però ha fatto un miracolo Olsen nel secondo tempo non si ricordano molte grandi occasioni Gervinio non ha inciso per niente contro la sua ex squadra molto egoista nelle giocate ma non si è visto neanche tanto non si può dire che sia stato invece migliori e peggiori in campo prima della Roma e poi del Parma allora il migliore in campo secondo me Cengizunder perché gol e assist ma secondo me è stato decisivo almeno quanto lui Lorenzo Pellegrini ma anche perché tornava da un infortunio è stato davvero decisivo perché tornando da un infortunio è riuscito a fare l'assist per il 2-0 che diciamo ha chiuso la partita poi peggiori diciamo secondo me Dzeko Dzeko e anche Zaniolo però Zaniolo è perché è difficile punirlo perché è ancora giovane è ancora giovane però ecco questa partita è stata un po' in ombra ma comunque a 19 anni deve ancora crescere mentre per il Parma? Per il Parma secondo me il peggiore è Gervinio e il migliore secondo me è il capitano Bruno Alves perché comunque se non fosse stato per lui il Parma avrebbe preso molti più gol diciamo che lui ha tenuto in piedi la baracca e si fa davvero capitano ecco Un'ultima domanda secondo te di Francesco rischia ancora la panchina o no? Staremo a vedere il girone d'andata è stato un po' sotto le aspettative dipende tutto dal girone di ritorno anche secondo me dalla Champions perché deve assolutamente passare il turno però non è sicuramente in bilico come era dopo Cagliari prima della Juve? Sì Ok Beh siamo arrivati alla fine di questo video commentate nei commenti dicendo la vostra su questa partita migliori o peggiori in campo lasciate un like per supportarci iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanella e noi ci vediamo ad un altro ad un prossimo post partita Ciao